Pronto, partito! Francesco Mirasola, campione italiano di braccio di perro, presente allo Sport Show. Che cosa rappresenta faccio lo sport? Per me lo sport è una delle cose più belle che caratterizza la società di oggi, dato che è una delle tutte cose fatte realmente di valori, di meritocrazia, e dà a molta gente la possibilità di conoscere se stessi e di farsi la vera. Sì, lo Sport Show ti ha dato la possibilità di incontrare tantissimi ragazzi anche della tua età, anche più giovani. Che consiglio daresti a loro per intraprendere questa attività? Allora, io consiglio di venire qui allo Sport Show, che sia per la mia attività, che è quella del braccio di ferro, o anche per tutte le altre, per cui ci sono tantissime, appunto venire qui e iniziare domani con il torneo, e trovare le varie attività che c'è anche l'opportunità. Tu hai raggiunto il titolo di canzone italiano, che cosa c'è dietro e quali sono? Qual è la difficoltà di arrivare ad un titolo che si può fare? Allora, sicuramente c'è dietro tantissima passione, tanta determinazione, tante ore che ho stato in palestra, delle sfide che alla fine per cui vado io, non sono tanto con i miei ammessori, ma sono delle sfide per me stesso, ma anche per passione e per il canzone. Grazie mille. Grazie a voi. 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 Ciao, grazie.